Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come trovare quella bellissima spada Aspettate un attimo che la trovo perché qua è un casino, ho più o meno 200 spade Vediamo un po' se la trovo Eccola qui, eccola qui, eccola qui, spada della notte ardente Oggi vi spiego come trovare questa spada che lancia un laser super sonico da Super Saiyan Niente, quello, un attimo che l'equipaggio, quello è il castello dove andare, molto semplice Dirigetevi lì, in quella porta, sì al cancello Io adesso mi spono un attimo, spono un attimo che trovo il posto Questo è l'ingresso Però se andate sempre avanti, se mi ricordo molto bene, qui in questa stanza, al piano inferiore del Cariano Mariano? Beh i nomi che ci danno, eh Vediamo se ho azzeccato il nome, eh Eh, sì, Mariero Gariano, ok, Mariero Gariano Salite da questa parte, salite so, ecco qua E poi adesso vi guido io, non vi preoccupatevi Io sono il vostro GPS, quindi dirigetevi da questa parte Adesso sponano i tizi qua, i fantasmi che sono facilissimi da uccidere Scusatemi, io non ho tempo da perdere con voi Vediamo un po' se mi ricordo dov'è Eccolo, eccolo, eccolo la casetta Proseguite da questa parte, quelli che lanciano incantesimi, che sono inutili Non mi fanno neanche un graffio Ehm, mettetevi qua in posizione E fate veramente un bel salto Sì, veramente un bel salto Qui, qui, saltate Scendete da questa parte E buttatevi là dentro Mi raccomando, non fate il salto e poi buttate là dentro Che morite Buttatevi qua, eh, fate quello che volete Tanto non vi fate niente Ehm, rotolate qua Rotolate, aprite questo baule All'interno di questo baule, questi leggi, i messaggi danno proprio fastidio Spada della notte ardente Finalmente ne ho due Adesso la potenzio fino al livello 9 Messaggio valutato Addirittura Ah, addirittura Allora, oh Dio, una mano Oddio, una mano Una mano, una mano No, dico proprio C'è una mano Madre del Dio Mano, mano del Dio Madonna, madonna mia Ste mano che non si Vaffanculo a ste mano A mano, tre mani c'è questo Tre mani Va bene ragazzi Se il video vi è stato utilissimo Sfogliate anche sul mio canale Moltissimi video utilissimi di Elden Ring Se questa mano la pianta Veramente non ce la faccio più Ora la distruggo E già a tre mani A tre mani Ecco, non ci è voluto niente Quindi, grazie a tutti per questa avvisazione Se il video vi è stato utilissimo Lascia like Iscriviti al canale Attivando anche la campanellina Seguimi sulla piattaforma Viola dove trasmetto Un bel paio di cose E niente Grazie a tutti per questa avvisazione E noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao